Attivo da qualche giorno un presidio fisso con agenti della Polizia Municipale al terminal di Colle Maggio. Una postazione voluta dall'assessore Laura Cucchiarelli e autorizzata dall'assessore Paula Giuliani per rendere il terminal più sicuro. Questo dopo i tanti episodi di violenza, droga, risse che hanno caratterizzato la vita del megaparcheggio, spesso salito agli onori della cronaca per questi motivi. Un servizio attivo tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.30, mentre la domenica e nei festivi i controlli saranno sviluppati con il servizio di pattuglie. Si tratta di una prima risposta alle stanze dei commercianti e dei cittadini, ma anche dei pendolari che hanno paura spesso di quel luogo. Il lavoro degli agenti presenti ha da integrare quindi le attività già posti in essere da tempo dal comune, che ha attivato già un servizio di vigilanza. Inoltre nel megaparcheggio sono già presenti 63 telecamere, che spesso sono state utili alle forze dell'ordine per individuare i responsabili di alcuni reati. La scelta è stata una scelta importante, quella di distaccare due unità per sei giorni a settimana qui al terminal. Una scelta che però, sono convinta, porterà degli ottimi frutti, in quanto la sicurezza sicuramente è un punto centrale di questa amministrazione. E soprattutto come Lega abbiamo inteso rafforzare soprattutto questa percezione della sicurezza per i cittadini, sia per chi fruisce dei servizi del trasporto pubblico e soprattutto per cercare anche di incentivare la sosta all'interno del megaparcheggio e per quindi decongestionare il centro storico dalla presenza di auto.